partiti in quinta corsia Gabriella Saliu è vice campione italiano giovanile in carica dei quattrocento e mille e cinquecento stile libero quindi una gara un po' troppo veloce per lui questa dei cento stile è comunque un atleta di altissimo livello giovanile capace di vincere due medaglie d'argento ai campionati italiani giovanili nella primavera del duemila dodici Bertazzo intanto ventisei e ventisei per il passaggio a metà gara per la prima serie sono ai blocchi Mattia Santi Idros in uno corsia due Cristian Ferraro Veneto Banca Montebelluna corsia tre Nicola Magro Plentin Veneto in quattro è stato bronzo in questa gara e nei cinquanta stile libero ai campionati italiani giovanili Filippo Tubertini Presidente Bologna corsia cinque Mattia Tescari Tim Veneto in sei Elia Zennaro Polisportiva Noale in corsia sette è stato bronzo nei cinquanta stile libero ai categorie estivi Alberto